Riceve il premio Donne eccellenti per la danza Sabrina Brazzo che si è contraddistinta a livello internazionale per la sua professionalità, per la sua eleganza e per il suo innato taritto. Non c'è un'età, poi se sei fortunati si hanno doti particolari si può andare avanti con l'età, poi l'esperienza è quella più importante alla fine, quindi quando si entra in scena con un ruolo se si adotti gambe molto alte, schiena flessibile e poi con un'esperienza già di tanti anni palcoscenico si può andare avanti. Perché questa leggerezza, quante ore al giorno di allenamento? allenamento sì, sei ore al giorno come base, poi dalle 6 alle 8, dipende, io ho dei giorni che entro in teatro alle 9 del mattino e esco a mezzanotte, dunque tutta la giornata. ci vuole passione, io dico sempre la testa, il cervello perché è importante scegliere le cose giuste col cervello, il cuore perché bisogna amarla, bisogna amare, bisogna avere passione e poi tanto lavoro, lavoro l'energia per lavorare. Traspare dagli occhi la tua scontazione. Sì, ho le mie punte che come la mia copertina di Linus ce l'ho sempre, perché non mi sento molto a poi col microfono in mano non sono molto abituata, dunque per darmi coraggio sempre. grazie. Grazie.